Animali insieme ai padroni. Una piazza, quella intitolata Gabriotti, piena come non si vedeva da tempo per la benedizione degli animali per Sant'Antonio Abate. Una manifestazione che è tornata anche nei comuni Tifernate dopo qualche anno di stop e in un giorno un po' diverso dal normale, proprio per evitare sovrapposizioni con altri eventi simili che si sono realizzati nei territori adiacenti. La giornata è stata divisa in due momenti. Il primo ha visto come teatro la zona antistante, l'ex scuola Garibaldi, dove si sono ritrovati i cavalli con i cavalieri e le carrozze. Tutti hanno sfilato poi lungo le vie del centro storico, fine ad arrivare davanti al Duomo, dove Don Alberto Gildoni e Don Fabio Radicchi hanno benedetto gli animali. Ma in piazza non c'erano solo cavalli o asini, anche tantissimi cani, qualche gatto, conigli e animali da affezione e compagnia. Dopo la benedizione c'è stata la distribuzione dei panini. Questo evento è stato organizzato dal gruppo Attacchi Umbria, con sede a Città di Castello. La manifestazione invece è stata patrocinata dal comune Tifernate in collaborazione con la curia a Vescovile. E il gruppo Svort Umbria, soccorso alluvionale ODV, la Rosa dell'Umbria ODV e non poteva mancare anche la PAT di Città di Castello.